Buongiorno ragazzi, bentornati! In questo video vi vorrei fare la recensione della trilogia Millennium, quindi i libri di Larson, che sono il primo, Uomini che odiano le donne, il secondo è la ragazza che giocava con il fuoco e il terzo è la regina dei castelli di carta. Trattandosi di una trilogia, io non vorrei assolutamente fare uno spoiler e svelarvi poi delle cose che magari vi porterebbero a capire quello che accade alla fine del primo libro, perché se voi non avete letto nessuno di questi libri e io vi racconto la trama del secondo e del terzo, potrei svelarvi delle cose che sono accadute qua e che è bene che voi non sappiate prima di aver letto il primo libro. Quindi a grandi linee, proprio grandi linee, vi racconto che si tratta nel primo libro di un industriale molto ricco, la cui nipote è scomparsa tantissimi anni prima, però ogni anno puntualmente gli arriva un dono da parte di questa nipote. Questo gli fa capire che la vicenda in realtà non è stata chiusa e quindi per indagare sulla sua scomparsa, dopo molti anni, quando ormai è alla fine della sua vita, contatta un giornalista della famosa rivista Millennium che si occupa di corruzione, affari loschi legati comunque alle imprese, al mondo imprenditoriale, diciamo, e questo giornalista che all'inizio non voleva neanche accettare perché comunque doveva trasferirsi sul Mar Baltico, quindi era un pochino lontano, diciamo, e scomodo, però dopo una prima titubanza poi si lascia convincere e accetta l'incarico. Al suo fianco ci sarà Lisbeth Salander, che è un personaggio veramente, veramente centrale di questa trilogia, un personaggio molto particolare, che a me piace tantissimo, un personaggio che sarà fondamentale per le indagini, che lo aiuterà veramente tantissimo e che poi ritroveremo anche negli altri due libri. Quindi questa indagine poi ovviamente va avanti, nel primo libro vengono fuori delle cose veramente particolari, delle cose, ci sono molti colpi di scena e non vi dico altro perché veramente è un thriller, quindi merita davvero di essere letto. Quello che posso dirvi è che è veramente molto molto avvincente, quindi vi terrà proprio incollati alle pagine perché avrete la voglia di sapere come va a finire, quale scoperta verrà fatta successivamente, quindi davvero molto molto particolare ed è molto molto bello. Gli altri due libri, come dicevo, sono La ragazza che giocava con il fuoco e Regina dei castelli di carta. Su questi io mi sento di dirvi soltanto che è la storia di Lisbeth in qualche modo che nel secondo libro va avanti e poi nel terzo continua ad andare sempre un po' avanti la sua storia, ma ci sono altre indagini, altri elementi che vengono tirati fuori, sui quali sia Lisbeth che il giornalista continueranno comunque a, diciamo, tra i quali si districheranno. Io non vi dico niente apposta di questi due libri perché davvero, se non avete letto il libro, insomma, dovrei svelarvi delle cose che comunque è bene secondo me che voi leggiate. La mia opinione su questi libri è che è veramente una trilogia che mi è piaciuta, sono dei thriller veramente avvincenti. Devo dire che nel secondo e nel terzo ci sono stati degli aspetti un pochino più deboli, secondo me. Ci sono delle pagine dei capitoli in cui l'autore, a mio avviso, si perde un po' troppo in descrizioni che non sono così fondamentali. Ad esempio c'è una pagina in cui descrive dettagliatamente cosa c'è nella borsa della spesa di Lisbeth, però in realtà non è un elemento importante per il romanzo. Quindi ci sono un pochino nel secondo queste cadute un po' così che ho trovato un pochino più noiose, però si tratta veramente di pochissime pagine, di pochissimi spot, quindi sono delle piccole scivolate ma sicuramente non compromettono la bellezza e diciamo la carica avvincente che hanno questi libri. Quindi sicuramente il primo, devo dire, che è il più bello di tutti, secondo me, perché è quello anche molto molto più avvincente, che veramente riesce a tenere incollati. Gli altri due, come vi dicevo, hanno questi elementi un pochino più così, però nell'insieme sono veramente dei thriller scritti molto bene, che vi consiglio di leggere perché vedrete che non ve ne pentirete. Sono abbastanza alti, come Mole, però è scritto abbastanza grosso, i capitoli sono abbastanza corti, quindi comunque si legge veramente molto bene. Quindi ragazzi, leggeteli, poi mi fate sapere cosa ne pensate. Tra l'altro per l'estate sono veramente perfetti perché essendo dei thriller scorrevoli, avvincenti davvero d'estate, secondo me, riescono a prendere anche molto di più, perché in qualche modo si è in vacanza, in ferie, quindi si è anche un po' più rilassati e davvero questi libri non sono così pesanti, quindi riescono comunque anche a farvi passare un momento magari in spiaggia, non so, mentre state viaggiando, magari in treno, non so, in aereo, davvero riusciranno a coinvolgervi, a farvi volare il tempo, sarete arrivati a destinazione senza rendervene conto. Buona lettura quindi ragazzi, vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti e buona serata. Ciao a tutti e buona serata.